Il fatto che anche sulla zona di Ponte Sasso, benché è una zona protetta da scogliere, è una zona completamente coperta, diciamo protetta da scogliere, sommerse ma comunque esistenti, ci sono stati dei fenomeni abbastanza forti di erosione, così come è avvenuto spesso anche in passato. Il punto qual è? È che come Regione Marche noi il problema lo abbiamo ovviamente su tutta la costa marchigiana, in alcuni casi anche in maniera molto molto seria e molto molto accentuata, come ad esempio Marina di Montemarciano, ma non solo. Stiamo provvedendo con tutta una serie di provvedimenti e di finanziamenti ad approntare proprio da qui ai prossimi 5 anni un piano molto sostanzioso di interventi. Però adesso veniamo a Fano. Noi abbiamo previsto 4 milioni di euro per completare le scogliere da Metauriglia fino a Torrette, quindi è il secondo stralcio di quello che è stato fatto negli ultimi mesi dalla foce del fiume fino a zona di Metauriglia, la continuiamo fino a Torrette, che è una zona che mette a repentaglio anche la ferrovia stessa. Sono previsti altri 275 mila euro per chiudere le scogliere tra la scogliera di Sassonia fino al molo di Levante del porto di Fano, che rimane un buco aperto e solitamente dà seri problemi. Prevediamo altri 300 mila euro in questo caso per uno studio complessivo dal Torrente Erzilla fino a Fosso Signore di tutto quello che serve in quella zona, cioè a nord di Fano. Quindi ecco, come Regione Marche stiamo portando avanti molte azioni, un altro milione e mezzo ad esempio per la zona di Marotta, Marotta di Mondolfo in questo caso. Io non ho da parte dell'amministrazione comunale di Fano una richiesta specifica su Ponte Sasso, cioè non ho una segnalazione ufficiale o diciamo così per iscritto portata avanti dall'amministrazione comunale di Fano. Anche se l'avessi, devo dire la verità, non è che riusciamo a fare sempre tutto dappertutto. Di conseguenza io direi una cosa, la dico questa sera ma la dirò anche al Sindaco i prossimi giorni. Potremmo pensare magari sul prossimo anno ad un bando come Regione Marche di rafforzamento di scoglieri esistenti, magari non tantissimi soldi, non parliamo di milioni, ma magari di qualche centinaia di migliaia di euro da mettere a disposizione dei comuni tramite un bando con la copartecipazione dei comuni. Perché quelle scoglieri già esistenti nella zona di Ponte Sasso, davanti anche ai bagni Alda, dove sono stati fatti dei danni anche i giorni scorsi, l'ultima mareggiata, non c'è bisogno di creare nuove scoglieri, ma di rafforzare quelle esistenti. Quindi con una spesa magari neanche esagerata potremmo intervenire. Quindi il mio pensiero, la mia idea potrebbe essere quella di un bando regionale dove i comuni partecipano con una loro quota, quindi qualche centinaia di migliaia di euro lo mette la Regione, qualche centinaia di migliaia di euro lo mette il Comune, si fa una manutenzione e si difende anche quella zona. Ecco, io in questo momento mi sento di proporre questo e ne parlerò i prossimi giorni col Sindaco Seri.